Nominati gli ultimi tre assessori regionali, tra questi anche un rappresentante del territorio della BAT, il tranese Mimmo Santorsola, con delega all'ambiente. Gli altri tre sono l'ex prefetto di Bari, Antonio Nunziante, e il foggiano, Lello Di Gioia. Il territorio della BAT torna ad avere una sua rappresentanza in giunta regionale. L'importante riconoscimento è giunto proprio ieri, grazie alle ultime nomine dei tre assessori mancanti da parte del governatore della Puglia, Michele Emiliano. I tre sono l'ex prefetto di Bari, Antonio Nunziante, vicepresidente con delega alla protezione civile, personale e innovazione dell'organizzazione, il foggiano, Lello Di Gioia, che si occuperà di agricoltura, risorse agroalimentari, alimentazione, riforma fondiaria, caccia, pesca e foreste, ed il medico tranese Mimmo Santorsola, cui vanno le deleghe sulla qualità dell'ambiente, ciclo, rifiuti, bonifica, rischio industriale, ecologia. Inoltre il governatore ha nominato il consigliere barlettano Ruggero Mennea, presidente del Comitato regionale di protezione civile. Dunque il territorio della BAT ha il suo assessore regionale, Mimmo Santorsola, responsabile di oncologia all'ospedale di Trani, al suo primo mandato da consigliere regionale. Una nomina straordinaria per l'intero territorio, soprattutto per le deleghe ricevute, quelle che potranno risultare decisive per il futuro di Trani e delle altre città della BAT, alle prese con la delicatissima questione ambientale. La discarica di Trani sotto sequestro perché è considerata una vera e propria bomba ecologica, quella di Andria sospesa dalla Regione, i tanti depuratori sotto sequestro per le indagini della procura di Trani, la vicenda dell'inquinamento di larghi tratti della mare della BAT, sono solo alcuni dei temi sul tavolo del neoassessore regionale. Ma ovviamente non vanno dimenticate le questioni ambientali di carattere nazionale che riguardano la Puglia come l'Ilva di Taranto, Tempa Rossa, sempre a Taranto, la centrale di Cerano, il rigassificatore del Salento, il caso delle trivellazioni in Adriatico e nello Ionio, insomma un calendario che si presenta già fittissimo di impegni per il neoassessore tranese.